La cena del consorzio, ristorante ai tre garofani a Seggiano Benvenuti in questo nuovo video che esolo un po' dal tema del canale perché non è stato fatto a Venezia. Comunque è la cena di fine anno del posto in cui lavoro con i miei colleghi e mangeremo dei piatti molto particolari tipici della zona tra cui il risotto di Go, un'occasione per ricordare un momento felice e condividerlo con voi. Mi scuso per alcuni che non sono stati ripresi per loro volontà o alcuni semplicemente per la bontà dell'ottimo vino che abbiamo bevuto. Vi lascio alle immagini. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.